Ciao a tutti, io sono il Dilan Dagofilo, oggi recensione dell'album in sile numero 362 dopo un lungo silenzio. Proprio adesso che ho tra le mani un albo di questa portata, mi ritrovo prigioniero del raffreddore più totale. Quindi Tiziano Sclavi, l'onipotente subremo sempre esso allaudato, a quanto pare ha scelto il momento più sbagliato per pubblicare quest'album. Però spero comunque riusciate a capire bene quello che dico al netto della voce nasale. Detto questo, la copertina è di nessuno, non sto scherzando perché c'è davvero scritto di nessuno, ma perché tutto questo bianco? Allora, ho sentito diverse campane, diverse opinioni da diverse persone. Alcuni dicono che la copertina si sposa alla perfezione con il contenuto dell'album, quindi un grandissimo silenzio, un grandissimo vuoto che circonda e forma le atmosfere proprio di questo libro. Alcuni dicono che davanti al ritorno dell'onipotente bisogna stare zitti e murti, infatti la copertina è bianca. Qui non abbiamo alcun tipo di pubblicità, qui non abbiamo il frontespizio e qui non abbiamo nemmeno alcune battute sul Dylan Dogro Club. Quindi, insomma, bisogna stare zitti davanti a un fatto così epocale. Non me lo sarei mai aspettato, giuro, nemmeno io che Tiziano Sclavi ritornasse a scrivere. Vi do ora la mia opinione su questa copertina. Secondo me, questa copertina la definirei pragmatica, perché il bianco totale che la compone simboleggia proprio l'insieme delle presupposizioni implicate nel rapporto interattivo tra emittente e destinatario. Quindi la mia opinione va a riassumere un po' tutte le varie opinioni che possiamo trovare in giro per internet. Detto questo, i test e la sceneggiatura sono, Tiziano Sclavi, disegni di Casertano. Di che cosa parla questa avventura? Abbiamo sia i fantasmi che vengono analizzati nel dettaglio e in chiave anche scientifica. Quindi avremo, oltre a una presentazione paranormale, anche una presentazione dal punto di vista scientifico. Quindi l'altra faccia della medaglia viene alla luce. In questa occasione va a confrontarsi con quella che è la visione invece dei medium di Dylan Dogg. Quindi un argomento visto da due punti di vista, se mi passate il gioco di parole. E poi avremo anche l'alcolismo che sarà il baratro dove purtroppo Dylan sprofonderà nuovamente in questa occasione. E devo dire il tema dell'alcolismo è stato particolarmente pronunciato in questa avventura. È stato analizzato nei minimi dettagli e si spinge molto più in là. Viene presentato molto più complesso di come l'abbiamo conosciuto sinora in altre eventuali avventure dell'indagatore dell'incubo. Devo dire che queste due trame si può dire si intersecano tra di loro molto bene. Perché Dylan verrà assunto da un signore che dice di vedere dei fantasmi. Ma al contempo questo signore sarà anche vittima dell'alcol. Quindi i fantasmi saranno una proiezione del mondo oscuro scaturito dall'alcol? Oppure saranno dei fantasmi veri e propri? Vi lascio a voi il gusto della scoperta. Vi dirò che in questa storia questi due argomenti si a cavallo e ne vanno a comporre un 50 e 50 ai fini della trama. Quindi c'entrano tutti e due. Abbiamo alcune situazioni dove Dylan si comporta veramente molto bene. L'impronta di Sclavi fortunatamente è rimasta quasi invariata rispetto al passato. Non ha perso lo smalto di un tempo perché comunque le varie citazioni, il vario classicismo che compone l'avventura è proprio firmato da Sclavi. Per classicismo intendo proprio delle situazioni classiche di ironia che vanno a mischiarsi con il mondo dell'orrore. Un oro veramente pronunciato nella panoramica in questa occasione. Non dal punto di vista grafico quindi non ci saranno mostri che balzano agli occhi del lettore. Ma ci sarà questo alone, questa atmosfera sempre e comunque davvero molto molto triste, molto cupa. Ecco siamo arrivati ad un punto chiave di quest'albo. È qui dalla pagina 37 in poi che si va a studiare meglio il fenomeno degli spiriti e dei fantasmi. Quindi più che altro è come se quest'albo fosse un trattato di fantasmi. Quindi sul mondo paranormale in generale. Si va a scavare molto bene in quest'argomento e si vanno a trarne delle conclusioni particolarmente interessanti. E è interessante anche dal punto di vista grafico in questo momento perché vi spiego un po' vi spiego un po' una cosa che non ho mai detto a nessuno. A me piacerebbe un giorno scrivere un'avventura di Dilan Dog. Dilan Dogofilo ma che ti credi di essere, non hai studiato per fare il fumettista o cose del genere devi stare zitto e non pensarci neanche. Vabbè mi diletterò, non è che non voglio sostituire nessuno ma mi piacerebbe insomma da appassionato scrivere una semi sceneggiatura di Dilan Dog. Quindi a tal proposito ho trovato veramente interessanti e fonte di sperazione queste fotografie perché era proprio anche una mia idea sostituire ai disegni dell'artista di turno delle fotografie vere in bianco e nero. Quindi vedete in questo caso sono di un certo effetto, ad esempio questo corridoio con questo fantasma riescono veramente a comunicare forti emozioni allo spettatore. Quindi ci sta questa scelta di sostituire in alcune vignette i disegni dell'artista di turno con delle fotografie vere e proprie. Invece la maggior parte della rappresentazione dell'albo è tutto in mano a Casertano che si comporta veramente in maniera strabiliante e dal mio punto di vista riesce a fornire a Dilan uno sguardo, comunque una fisionomia del volto più omogenea di vignetta in vignetta. Non abbiamo dei tratti particolarmente enfatizzati o dei tratti caricatoriali come abbiamo visto in altre storie di Dilan Dog. Ecco, quella era una piccola particolarità, non necessariamente criticità dell'artista. Infatti alcune volte, mi spiego meglio, magari questo prete, vedete, tende ad avere un naso pronunciato Casertano che tende sempre a enfatizzare proprio alcuni tratti distintivi del volto di taluni personaggi. In questa occasione invece, come vi dicevo, tutto viene rappresentato in chiave più realista quindi anche Casertano mi è piaciuto di più in questa occasione. Poi un tocco di classe lo possiamo trovare proprio negli occhi. Gli occhi sono una parte portante appunto dell'espressività e vanno a completare il ventaglio di espressioni nella maniera più completa. Devo dire che le espressioni degli occhi sono state rese magnificamente bene. La sceneggiatura poi si svilupperà intorno delle routine londinese vedete al posto degli zombie ci saranno dei fantasmi infatti se vi ricordate nel corso dell'avventura nella maggior parte degli albi di Dilan Dog ci saranno in giro gli zombie per le strade invece qui ci saranno in giro i fantasmi quindi un'ottima sostituzione dei protagonisti di turno, fra virgolette. Poi abbiamo infine Madame Trelkowski che ritorna in grande stile in questo albo e come vi dicevo riesce a dare una ventata di aria fresca all'albo in generale perché svolgerà lei il ruolo di medium ma sarà anche accompagnata da alcuni scienziati o comunque scienziati forse è una parola grossa ma comunque da alcuni cacciatori di fantasmi che attraverso apparecchiature tecnologiche cercheranno di sondare appunto la casa di turno infestata e cercare oscure e misteriose presenze ma come vi dicevo questo è un grande valore un grande valore aggiunto a questa avventura perché il lettore avrà modo di interfacciarsi anche con l'altra faccia della medaglia che vi citavo all'inizio della recensione quindi avremo modo di trovare sia il punto di vista del medium e del paranormale sia il punto di vista dello scienziato quindi un'avventura molto completa che mi sento di promuovere con un otto pieno perché se lo merita e poi tutto sommato avremo anche il dubbio che sempre si ripercuote nei finali degli albi classici di Dylan Dog ovvero come sempre come vi dicevo all'inizio è tutto frutto di allucinazioni sarà vero, fantasmi sono veri saranno una proiezione degli effetti negativi dell'alcol insomma tante tante domande che vengono presentate alla fine di quest'alba a cui il lettore soggettivamente andrà a dare risposta bene per il momento è tutto direi che quest'albo come ritorno in pista di sclavi non è male speriamo che ne scriva altri ma mi pare sia già al lavoro su altri albi se questo video in qualche modo ti è stato utile o se ti è piaciuto condividilo dove vuoi iscriviti al canale youtube del Dylan Dogofilo importantissimo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo grazie a tutti